Ben tornati sulla piattaforma di GAMSGO dove tu puoi comprare moltissimi servizi come Netflix, Spotify, Premium, Disney+, Paramount+, e altri servizi per ascoltare musica e anche lavorare su Office 365. Ovviamente andremo a parlare di Netflix con un costo di 4,20€ al mese. Se puoi guardarti Netflix fino a 4K Ultra HD, come puoi vedere ci sono i mesi di acquisto, 3 mesi, 13€, più il codice promozionale che ti ho lasciato direttamente in descrizione oppure quello che vedi sullo schermo che sta qua. Lo inserisci direttamente su hai un codice promozionale o un cubano e qui c'è scritto inserisci il codice promozionale e metti questo codice promozionale. Ci sono pure i 3, 6 mesi e 12 mesi. Quindi su GAMSGO come funziona? In descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina di GAMSGO, questo è il link. Entra direttamente su un link, accedi direttamente con il tuo account Google oppure qualsiasi altro account Google. Ti consiglio Google perché così facendo ti manderanno per via email le credenziali come puoi vedere. Per via email mi hanno mandato le credenziali per l'abbonamento di Netflix. Quindi ti faccio vedere anche i miei vecchi abbonamenti. Se vado direttamente su il mio abbonamento ed ecco lì qua. Questi sono stati i miei vecchi abbonamenti che ho comprato su GAMSGO, Netflix, anche quello di Disney Plus e Paramount Plus. Quindi GAMSGO è una buona piattaforma dove tu puoi risparmiare un sacco sulle piattaforme streaming, Netflix, YouTube Premium, Disney Plus, Paramount Plus. Se ascoltare musica su Spotify ora hanno aggiunto quello da 12 mesi che costa 22,99€ più il codice promozionale e puoi risparmiare 1,90€ al mese. Spotify Premium 1,90€ al mese. Ci sono moltissimi clienti che lo stanno comprando. Un cliente l'ha comprato due minuti fa, sei minuti fa. Quanto comprerai così in Netflix? Quanto ti manderanno poi le credenziali per via email? Tu vai direttamente sulla piattaforma Netflix e le inserisci qua. Come puoi vedere l'indirizzo email e il numero di cellulare. Metti le email che ti hanno dato e la password e fai accedi. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risparmiare sulla piattaforma di GAMSCO, una piattaforma veramente facilissima da usare, prezzi veramente buonissimi. Se hai altri problemi puoi sempre entrare nel mio server Discord, parlare con me per il supporto. GAMSCO ti dà pure il rimborso se non sei soddisfatto, 24 ore su 24 il supporto. Per altri problemi ancora puoi iscrivermi su Instagram oppure sotto al video nei commenti. Quindi grazie a tutti per il vostro tempo, per la visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!